Allora, intanto vi do il benvenuto a tutti e a tutte come Attacca Italia. Io sono Maria Francesca, ho un po' il compito giusto di intervenire per tenere un po' il filo anche con gli incontri precedenti che ci sono stati di questo corso. Il corso nasce da questa iniziativa Riprendiamoci il Comune che è stata una campagna portata avanti da una serie di realtà su tutto il territorio italiano e che ha poi deciso di ragionare sul municipalismo per trovare spunti per favorire un apprendimento reciproco tra pratiche politiche, di teoria e di pratica politica che ci sono su vari territori e in vari momenti nel tempo. Ovviamente il municipalismo per noi è stato un riferimento centrale perché è un po' quello che ha consentito di promuovere anche più recentemente l'idea diversa del Comune, dei territori, degli enti locali come motori, intanto di una forma diversa di fare democrazia ma anche di una democrazia che parta da valori più chiaramente ecofemministi e anti-austeritari come poi è stata proprio la proposta della campagna Riprendiamoci il Comune. Quindi siamo partite un po' da un inquadramento teorico sul municipalismo di Yolanda Bianchi e da Francesco Brancaccio che ci ha raccontato dell'esperienza della Comune di Parigi, entrambi ricercatori e attivisti sui temi di cui ci hanno parlato. Oggi appunto parleremo dell'esperienza di autogoverno delle comunità zapatiste in Chiapas e diciamo nei successivi incontri che si terranno ogni due settimane. Quindi parleremo dell'esperienza del Rojava e poi di Barcelona in Comune di Zagreb e infine della democrazia e dell'autogoverno delle comunità territoriali. Senza prendere ulteriore tempo presento Raul Zibeschi che è il relatore di oggi, giornalista, scrittore, ovviamente leggo quello che mi trovo, poi se ci sono imprecisioni mi corriggerete. Giornalista, scrittore, attivista ed educatore popolare, uruguaiano, segue i movimenti sociali latino-americani, ha ricevuto il premio a José Martí per il giornalismo dell'Agenzia Prensa Latina nel 2002 e il dottorato Noris Causa alla carriera all'Università Mayor de Sant'Andrés de la Paz in Bolivia. Autore di diversi libri e molto conosciuto in Italia, dapprima per la lunga collaborazione con la rivista Carta e successivamente con il sito di informazioni Comune Info. Allora lascio a Riccardo la conduzione dell'incontro e ovviamente resto qui per qualsiasi cosa. Bene, grazie a Maria Francesca e grazie a TAC Italia di aver organizzato questo momento di riflessione. Come Comune Info noi abbiamo un dialogo aperto da anni con Raul Sivechi, che è un amico caro e oggi forse lo accenno, magari più che io poteva esserci Marco Calabria, un nostro comune amico che non c'è più del fondatore di Comune Info, che sarebbe stato contentissimo di essere qui e di tradurre Raul. Ma insomma, abbiamo un po' appunto messo qui gli articoli di Raul, che è una persona, un giornalista e anche un attivista, insomma un ricercatore molto attento ai movimenti in America Latina, gira moltissimo questo continente, incontra i movimenti, fa indagini, interviste, per noi è una voce preziosa di quel continente e ad oggi un po' gli abbiamo chiesto a Raul di raccontarci un po' la sua esperienza con il movimento zapatista che ha seguito sin da sempre e soprattutto un po' come dire, dirci oggi che cosa ci può trasmettere, no? Ci trasmette quell'esperienza che ricordo è una delle esperienze che fortemente hanno, come dire, imposto l'idea dell'autonomia dentro i movimenti sociali, no? Come visione, come costruzione e credo che di questo insomma in qualche modo dobbiamo fare una riflessione anche come movimenti italiani, insomma. Ecco, questa è la mia brevissima introduzione, do la parola a Raul che parla un italiano che è invece buono, ogni tanto lo aiuterò, ma insomma non è un itagnol come il mio, insomma, per cui sono sicuro che andrà bene e ci sono delle slide che condividiamo e così avrete anche delle immagini di quello che è la sua esperienza, insomma, in Chiapas. A te Raul, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti e tutte, grazie per l'invito. Scusarmi per il mio italiano è terribile, ma Riccardo va ad aiutare a me con alcune parole. Bene, due questioni per cominciare. La prima è che l'autonomia non è per i zapatisti un'istituzione, ma un processo. Un'istituzione è una, 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 algo, in, algo finalizzato, algo che non si muove, ma il processo è permanente e poiché tale processo è sempre incompiuto, deve sempre continuare ad avanzare per non scomparire. L'idea di autonomia al plurale deve essere plurale, perché non esiste un'autonomia. Le diverse autonomie dei diversi popoli sono differenti, perché le tradizioni, la cultura, le forme di fare sono differenti. L'idea di autonomia al plurale e come relazione sociale tra le persone con la natura, deve essere, credo, lo sfondo delle nostre riflessioni. Questa è la prima questione, può essere un dibattito o no. La seconda cosa è che tutto questo che vuoi parlare allora è cambiato dalla fine del 2023. In un primo momento io voglio raccontare come è l'autonomia zapatista, che esiste in tre livelli. Il livello di base è la comunità o l'aldea, la piccina aggruppazione di persone. Il secondo livello è il municipio, che sono molte comunità, 40, 50, 60, non esiste un numero definito. E il terzo livello è la regione, che comprende 4, 5, 6 municipi. La prima questione è che cada comunità è differente, non esiste una comunità zapatista, esiste zapatisti che lavorano nella comunità. In alcuni casi 90 o 100% della comunità è zapatista, delle famiglie. I zapatisti parlano di famiglie perché il lavoro nell'America Latina, dei movimenti, è la base del lavoro della famiglia. E in alcuni casi solo una famiglia o una persona nella comunità zapatista. L'eterogeneità è predominante, è la questione più importante. Io voglio compartire con voi un PowerPoint per fare un po' più chiaro, ma trasparente, il processo di organizzazione. Questo è un mappa di Chiapas, istorico, dove esisterono cinque caracole. Oventic, Roberto Varios, La Garruccia, La Realidad e Morelia. Questo caracole era il mappa e lo stato di Chiapas in Messico. E questi caracoli erano l'organizzazione regionale dei zapatisti. La realtà era più vicino della frontiera con Guatemala e Oventic è più vicino della città San Cristobal de las Casas. Oventic è la montagna, la realtà è la selva. La selva, si dice in italiano? Sì, la maturonia, sì, sì. Bene. Questo è 2019, agosto. Il territorio storico dei zapatisti è in colore morado, si dice? Morado. Morado, sì. Il nuovo territorio è in verde, in colore verde. Il vecchio, i vecchi caracoli sono in nero e in rosso le nuove. E le passano di cinque caracoli a duodici. E con alcuni territori è fuori delle zone ma scompatta di influenza zapatista. E le parlano zone di influenza, non zone zapatista. In queste regioni esistono moltiplicità di differenze. L'eterogeneità è dominante. In questo momento è più complesso perché l'avanzo del narcotraffico mobilizza tutto. Le strelle sono i municipi, che erano 35, approssimatamente. E questa era la regione più importante del zapatismo. E questo è un altro mappa, ma... Parlarono delle nuove caracole, che erano centri di resistenza. Un'acclarazione anche previa. Io sono parlando per me. Io non sono il portavoce del zapatismo. Io comprendo alcune cose, altre sono mia comprensione o il mio errore. La mia idea è cominciare dal basso, perché l'autonomia zapatista si costruisce prima dal basso per la cima. E la seconda questione è che non è un'autonomia generale. Hai autonomia di educazione, di sanità, autonomia di produzione. L'autonomia cammina in diversi modi. Questa è una piccola scuola in una comunità. Cada comunità dove esiste organizzazione zapatista tiene una scuola, piccola o grande. Depende dalla forza dell'organizzazione. Voi potete vedere che è una scuola molto umile, molto semplice, semplice, è una scuola di una comunità povere, ma esiste questa scuola. Questa scuola è autonoma. Le coordinatori della scuola parlano con le famiglie, con la famiglia dei bambini, per decidere come e che cosa si parlano nella scuola. L'insegnanza è coordinata, le coordinatori di salute, di educazione, con la comunità e principalmente con la famiglia dei bambini. Il coordinatore o le diverse coordinatori della scuola non avevano salario, denaro. è volontario, la comunità nombra, decide che persona è appropriata per l'educazione o per la salute, sanità o diverse questioni. ma la comunità sostiene, lavora nella milpa, nella terra dei coordinatori di salute. Non riceve salario, ma non tiene preoccupazione di lavorare la terra per l'alimentazione. Hai capito tutto? Perfetto, perfetto Raul. Va bene. Questa è un'altra scuola, in un'altra comunità, un po' migliore, una scuola un po' maggiore che gli altri. Questa è una scuola primaria, ma più consolidata che gli altri, in una comunità dove i sapatisti sono più numerosi. tre scuole differenti, tre costruzioni di scuole differenti, ma l'interessante è che non ha un padrone comune di come deve essere la scuola, l'architettura. e cada comunità fa la scuola come si può, con le forze che tiene, con la possibilità di lavorare, più o meno. Questa è una scuola costruita non di madera, ma di costruzione forte, no? Cemento. De cemento. Questo è interessante perché l'autonomia è anche nella scuola. In ogni scuola non esiste uniformità, non esiste omogeneità, la forma della scuola, della costruzione, anche la pintura e l'arte che tiene, è differente. Un spazio di donne nella comunità, semplici, ma le donne nella comunità, il livello di base, sono organizzate. Non esiste la possibilità che le donne non stiano organizzate. La comunità, le donne sono organizzate, ma non solo come donne, tiene l'economia propria, tiene plantazione di caffè, coltivo di caffè, o coltivo di diverse piante, e la comunità tiene una forma di, come si dice, gallinero, di spazio per le galline. Sì, di pollaio. Pollaio. Pollaio, perché le donne non devono dipendere dalla comunità o dai uomini. Uomini, uomini, è autonoma, le donne sono autonome, con sua propria economia. Se le donne deve partire dalla comunità per un corso di formazione, non tiene sua autonomia economica per fare questa attività. Questo è molto importante perché non esiste un'autonomia, ma moltiplici e diversi. Io ho parlato della comunità, del municipio e della regione. Sono livelli. di ogni livello. Ma allora parlo che in ogni settore è autonoma, la salute, le donne, l'educazione. Questa è un'altra casa di donne, perché le donne, per caso, questa è nella comunità, una costruzione di legno semplice, e questo è nel municipio o regione dove tiene molteplicità donne e la costruzione è più completa. Come si dice meglio? Migliore. Migliore. Non solo le donne adulte, anche le bambini sono organizzate o partecipano dell'organizzazione autonoma. questo è la sanità. Esiste una sanità molto semplice nella comunità, ma nella regione la questione tecnica e ecografia e altre cose è complessa, ma più con macchine, con tecnologia, ma più intensa, ma completa. Riccardo? Più strutturata, più organizzata, sì. Questo. Sì. Questa è una campagna contro la Coca Cola, perché la Coca Cola si beve molto nelle comunità e questa è una discussione importante. importante. Allora, hanno parlato del livello di base che è la comunità organizzata in assemblea, il municipio dove esiste il rappresentante delle comunità, delle diverse comunità e la regione. la regione era punta del buon governo, voi comprende in italiano, punta del buon governo. questo è interessante perché nella junta del buon governo esiste metà delle persone che decidono, sono uomini e l'altra metà delle donne. ma tutte le settimane le 15, 20, 20, 25 persone che partecipano nella giunta del buon governo è rotazione. Perfetto, c'è nella giunta del buon governo una rotazione per cui una volta settimanalmente quelli che partecipano poi la settimana dopo c'è un cambio tra loro. E come viene questo cambio, total o di alcuni? Total. Ok. Le persone che occupano il posto sono persone che partecipano nelle municipi. Ok. Questo è la junta del buon governo di Oventic, vicino di una ora di San Cristobal, la montagna. può essere che avevano in questa regione sette municipi. Le persone che integrano il municipio, che viene dalla comunità, sono di rota, che partecipano a tutto nuovo un giorno alla settimana. questo è un caos, o era un caos, ma adesso la discussione dei sapatisti è interessante perché la rotazione impede, proibe, non permette che si forme una burocrazia. questo è molto importante perché lo Stato, secondo Max Weber, è una burocrazia militare e civile non eletta, non eletta, che nadie la elige, permanente. questo è interessante perché è un principio dei sapatisti di non formare burocrazia. l'autogoverno è senza burocrazia. Questa è un'altra casa di junta del buon governo in un'altra regione. questa è una riunione della junta del buon governo. la partecipazione delle donne non sempre è ugualitaria perché esiste il patriarcato, ma è una lotta continua per fare che le donne partecipano è che gli uomini sono flessibili per permettere la partecipazione delle donne. Questa è una lotta più lunga, che non ha finalizzato, che è in processo, ma è parte della lotta. Uno dei problemi è la partecipazione delle donne e dei giovani. questo è un altro problema. Questo è il Caracolo Ventic, che è un spazio più grande, dove esiste la junta del buon governo, l'edificio, come si dice? Edificio? Edificio. Edificio. Edificio? Sì. De cooperative, di donne, della scuola secondaria. questa è la parte centrale del Caracol e la municipalità aveva un edificio anche, e questa è la secondaria. la secondaria anche, come la scuola, è autonoma, perché i bambini, gli studenti, è permanente, dorme in questo spazio e tiene aula, ma la secondaria, come la scuola, non avevano di persone che fanno la pulizia, di persone che fanno la cucina, tutto è organizzato per i professori e gli studenti con l'appoio della famiglia. è una zona di montagna, come si vede, la costruzione è forte di cimento e il funzionamento è autorregulato, è l'autogoverno della secondaria. e dopo voglio parlare un poco di questo che non si può fare una istituzione autonoma e che le diverse parti di questa istituzione non sia autonoma, sia eteronoma. questo non è una vera autonomia. clinica di donne, clinica di salute di donne, anche in Los Altos, in la zona di Oventic, della mesma forma, la clinica o l'ospedale sono autonome, questa è una vecchia clinica, la guadalupana, la prima clinica dei sapatisti, è più bello, no, la forma come avevano la pintura e la forma di presentare l'edificio. è una clinica di donne, comandante Ramona, e questa clinica, come gli altri, anche funziona di forma autonoma. le persone che lavorano là, tiene sua assemblea, sua riunione e decidono tutto. questa è una clinica, anche scuola in la realità, quando il maestro Galeano fu assassinato, 2018 o 2017, e lei costruì un edificio grande, di due livelli, di due piani, scuola e clinica. questa è una parte della clinica, tutta clinica tiene farmacia, farmacia? sì, farmacia, sì. farmacia è una sala per l'attenzione delle persone, questa è la farmacia. la salute sapatista funziona in quattro forme, una è la salute alopattica, occidentale, no? e le altre tre parti sono la salute tradizionale, le plante medicinali, il parto, il parto è la nascita dei bambini, e los huesos, la osteopatia, hueso come si... ossa, ossa, ossa. ossa. E questo è anche parte dell'incontro delle donne. Questo è un caracol di protezione delle donne e delle bambine. Questo è un nuovo caracol, dei sette nuovi caracoli. E diverse mobilizzazioni del mondo sapatista. Questa è una foto aerea di un caracol, che è Morelia. Nell'ultimo anno ha crescito molto le costruzioni nel caracol. E l'altro è il caracol di Oventic, dove funziona molte organizzazioni del sapatismo. Ma allora andiamo a parlare un po'. Nell'anno 2019 e nell'anno 2023 il sapatista decide cambiare tutta l'organizzazione. Il caracol continua, o centro di resistenza, ma ha un comunicato, io posso inviare, del subcomandante Moisés, che si titola La maldita piramide. E le parlano in questa forma. La struttura dell'autonomia era molto interessante, ma la forma di funzionare era di separazione della junta di buon governo della comunità. Una cosa è la struttura, può essere una struttura meravigliosa, orizzontale, partecipativa, ma la forma di funzionare è piramidale, perché la nostra cultura è piramidale, è gerarchica. In questo caso il problema è che decidono di dispersare tutte queste organizzazioni e creare nuove... Allora non esiste più una junta di buon governo nei municipi, dove esistì un municipio esiste 20-30 assemblee di comunità. Perché? Perché la lettura, per me è interessante, è differenziare la struttura del flusso, di come l'energia si muove. Questo per noi è interessante anche di riflessione, perché può funzionare un'assemblea, ma l'assemblea può essere orizzontale o gerarchica. L'assemblea di molti sindacati non è molto democratica, l'uomo che dirige tiene molto potere, no? La maggior parte delle persone che partecipa è come spettatore, no? Non parlano, solo vota. L'autocritica sapatista per me è molto interessante, perché le persone che osservano il flusso dell'energia, come funziona lo quotidiano e decidono dispersare, decidono che non solo per la questione della piramide, anche per la tormenta, il tsunami, il caos sistemico, il colasso che i sapatisti parlano permanentemente. Per affrontare il colasso, la piramide è la peggior forma. Se siamo dispersati nel territorio, possiamo resistere l'aggressione del narco, l'aggressione dello Stato, dei militari e il caos climatico di una forma più interessante. È come sembrare, no? Per sembrare non deve concentrare le semente. Deve dispersare le semente nel territorio, nella terra. Questa è per me una lezione di autocritica, di vera autocritica, perché la costruzione dell'autonomia, dell'autogoverno, durante 30 anni, poi è cambiata per migliorare l'oggettivo dell'autogoverno. E questo è per me interessante per questa questione, perché l'autonomia deve essere elaborata, costruita tutti i giorni, non di un dia per tutta la vita. Bene, questa è la mia partecipazione. Noi possiamo intercambiare, discutere un po' e così. Allora, grazie intanto Raul. Qui ho metto un articolo che riassume un po' di cose che hai detto, c'è anche la lettera a cui facevi riferimento di questa trasformazione, questo cambiamento. Io raccoglierei un po' di domande, no? Maria Francesca, siete abituati un po' a scambiare, immagino, con chi è presente. Forse io inizierei un po' con due domande a Raul. Oggi, come dire, il Chiapas sembra molto lontano per noi, no? Il percorso che hanno fatto, quello che sta avvenendo nel mondo e così via. Questa esperienza sembra molto difficile da comprendere o comunque da provare a sperimentare anche in altri territori. Per cui la domanda che ti faccio è un po' quanto questa esperienza, secondo te, ha contaminato i movimenti in America Latina, intanto, perché, diciamo, quel continente ha il suo percorso e la sua storia, e quanto pensi sia importante continuare a prendere da questa esperienza, no? Anche quest'ultima trasformazione che dicevi, perché non è sempre facile da comprendere, no? Che sta succedendo lì e così via. Per cui, magari, qualche elemento che per te sembra importante riprendere, ecco. Io rispondo alla tua domanda? Sì, iniziamo così, per rompere il ghiaccio, poi ne arriveranno altre. Per me non è facile conoscere l'influenza che ha lo sapatismo in America Latina. L'unica forma di conoscere un po' è l'idea del sapere indiziario di Carlo Ginzburg, no? Che succede con l'autonomia nell'America Latina in questi anni, no? Questo è interessante perché l'autonomia si ha moltiplicato nell'America Latina. In questo momento, nel Perù, nel nord dell'Amazzonia peruana, avevano nuovi governi territoriali autonomi. Questo non si conosce fuori del Perù e anche nel Perù. Ma perché nuovi governi territoriali autonomi? Perché il problema è l'estrativismo, la guerra contro la natura e la guerra contro i popoli per l'aminerazione, per l'idrocarburo e l'esplorazione della natura. In altre, l'amazonia brasiliana tiene 26 popoli che hanno il cammino dell'autonomia. Il mappa dell'autonomia nell'America Latina è più grande, è minoritario, ma non marginale. Il popolo Garifuna in Honduras avevano 48 comunità lavorando per l'autonomia, con una università, Garifuna, in costruzione. In Cile, il popolo Mapuche. Nel cauca di Colombia, i popoli Nasa e Misak, una larga tradizione di autonomia. Alcuni popoli neri, negri, negri, afro, sono in processo di autonomia. Camponesi, campesinos, contadini, contadini, anche nella Colombia in processo di autonomia. Ma non è una influenza diretta. Non costruiamo l'autonomia perché hanno letto il comunicato di Marcos. No, non è questa la cosa. È più complesso. La forma dell'autonomia è diversa. L'autonomia dei popoli dell'Amazonia peruana è differente a tutto. Con una Costituzione, con un'organizzazione di governo. È molto differente da l'esperienza zapatista. Ma, senza dubbio, il cammino dell'autonomia, anche in Messico, no? Cerano, Ostula, altri popoli andano per un cammino d'autonomia. Bene, grazie. Allora, raccogliamo altre domande. Vi prego, domande, non grandi interventi, lunghissimi sulla domande, così abbiamo uno scambio, insomma. Gianluca? Vado? Sì. Allora, intanto un abbraccio Raul. Come ha detto Riccardo, oggi ci manca molto Marco. Quindi ti aspettiamo per scambiare gli abbracci che avremmo preso e dato a lui, insomma. Detto questo, hai citato a un certo punto, diciamo, i grandi ostacoli, i grandi nemici degli zapatisti, no? Dallo Stato, i militari, il narcotraffico. Mi interessava capire un po' di più il discorso proprio dei militari, paramilitari, in difesa, no? Soprattutto dell'estrattivismo, che non riguarda anche poi solo il Chiapas, che in questo senso credo sia un problema che anche qui in Europa, in forme ovviamente un po' diverse, però è forte, è sentito, sta crescendo pure. Quindi ecco, come agiscono questi ostacoli, questi veri e propri nemici, insomma, delle comunità e come ci si difende, insomma? Gianluca, anche l'immigrazione è un grosso ostacolo, perché? Perché molti giovani viaggiano agli Stati Uniti, alla città, per lavorare o per lo studio, è un ostacolo molto forte, l'immigrazione. Gli zapatisti parlano di 120 anni, sette generazioni, per che nasca una donna, una bambina, Denis, libera. Perché parlano di 120 anni? Quando io ho letto questo comunicato, per me era incredibile, no? Per due questioni. Una perché nel corto plasso... Si, a breve termine, sì. Nel breve termine, la nostra lotta è molto difficile, no? La situazione internazionale, le guerre, l'estrativismo, il cambio climatico è un ostacolo quasi insuperabile per i popoli. Valenzia, la Spagna, l'inondazione. Sono due forze, la forza armata, lavorando, e l'estrema diritta, no? I fascisti. L'organizzazione popolare nel colasso è più debole. Non siamo in condizione di affrontare e di costruire mondo nuovo nel mezzo del colasso. La forza dello Stato, del narco, del maccio alfa, parliamo noi, e nell'America Latina, è più forte. Questo, parlare di 120 anni, è sette generazioni, rassonabili perché? Perché stiamo lavorando per un futuro che non è cercano? Vicino, vicino. Che non è vicino. Questa è la prima questione. La seconda questione, più importante, è l'idea di seminare senza raccogliere. Questa è una questione etica per me, molto importante. Io sono figlio degli anni 70 e 60, della rivoluzione del 68. Ma l'idea era fare la rivoluzione noi, ingressare noi al palazzo d'inverno. Ma i popoli indigeni parlano di seminare senza raccogliere. Seminare oggi, per che altri che noi non conosciamo, possano raccogliere. Questa è una questione etica. Il lavoro di oggi è seminare. Se noi, noi raccogliamo, non è importante, perché il lavoro è seminare. Chi ritira, chi raccoglie, non ha importanza. Questo è un cambio più forte nella lettura della rivoluzione, per me. Ma non so. È una discussione, no? Non è una conclusione. Allora, ecco, c'è Maria Francesca che ha alzato la mano, vai Maria Francesca. Sì, io ero un po' interessata, se puoi un po' approfondire su un po' i dispositivi sia di decentramento del potere di cui hai parlato, per arrivare dalla piramide al potere diffuso, e in particolare la tensione un po' che hai descritto tra le autonomie, diciamo, delle donne, delle bambine già esistenti, però un po' la tensione del fatto che in fondo c'è ancora lavoro da fare. Quindi volevo sapere se ci sono un po' strategie, strumenti particolari che vengono usati e che tipo appunto di cultura si mette in opera per questo scopo. Io ho scritto un libro tradotto per Marco Calabria, Disperdere il potere. Il capitalismo è la concentrazione del potere. Abdullau Calan parla, la prossima settimana va a parlare di Rojava, va a parlare di Rojava. Bene. Abdullau Calan parla nel secondo libro delle sue scritte che il capitalismo non è un'economia. Esiste un'economia capitalista, ma il centro del capitalismo è un potere, una forma di potere. Grazie Gianluca. Perché questo è importante? Perché lo Stato è la concentrazione permanente del potere, di un potere sopra la società. Gli altri che ha scritto molto di questo è un antropologo francese, Pierre Clastres. La dispersione del potere è una forma rivoluzionaria di lottare. Per me esistono due esperienze importanti di disperdere il potere. Il movimento femminista, le donne. In nessun paese esiste un comitato centrale di donne, di femministi. Le femministe sono molte organizzazioni piccole, o non molto piccole, ma non centralizzate, e i movimenti indigeni dell'America Latina. Probabilmente in altri continenti esiste una questione così. ma la dispersione del potere è un processo, non è un dispositivo unico, è una cultura politica nuova. una cultura politica nuova. Se le donne, se il movimento delle donne, o anche il movimento ecologista, fa una concentrazione del potere, questo è la riproduzione del patriarcato. no? Entonces, disperdere il potere non è una tattica, non è una questione congiunturale, è una cultura politica permanente di lungo aliento, di lunga data, per tutto il periodo. La rotazione, quando esiste un gruppo piccolo, non esiste il problema della concentrazione del potere, ma quando esiste 200.000 persone, come i sapatisti, organizzate, popoli, grande popolazione, la governanza e l'autogoverno è complesso, no? In questa situazione, la rotazione è una buona strategia, una buona pratica, perché la parola sapatista dice, io tengo il traduttore, ora sappiamo tutti come governare, l'idea dell'autogoverno non è che esiste un gruppo specializzato in governare, e che tutta la popolazione, non è il caso, perché è un processo di autoeducazione lungo, ma l'idea è che ora sappiamo tutti come governare, tutta la popolazione aveva le condizioni per governare, questa è l'idea centrale, no? Il governo non è per persone, per specialisti, è per le persone comune, la gente comune, la gente comune deve avere condizioni per governare, si solo governa le politiche, stiamo riproducendo il capitalismo, questa è la discussione per me, non c'ho la manina, posso fare una domanda? Vai, vai, grazie, niente, chiedo, in Messico, altre esperienze sociali, delle reti, ci sono tante reti sociali, ci sono i gruppi campesini, contadini, sappiamo, insomma, che è abbastanza plurale e articolata la realtà di movimento e dei movimenti in Messico, ma ci sono state esperienze che hanno provato a replicare esperienze di autonomia, forme di autonomia extra istituzionali o anche addirittura qualche istituzione che ha provato a replicare forme di autonomia varie diciamo non copiando ma come dire, assumendo questa questa idea e questa forma di processi autonomi collegati alla dimensione locale chiaramente, alla dimensione dove si esprimevano insomma in tutto il Messico. Mi puoi sardustire un po' dito, Riccardo? In questi 30 anni, in questi 30 anni di inserciare il tepide se ci ha altri movimenti sociali in Messico che in qualche modo si stanno attivando con la altra modalità però che stanno in relazione con loro e che ti pare? se nel Mèxico si si è una attività di contaminazione di questa esperienza altri movimenti sociali questo è un mapa dei popoli indigeni di Messico la maggior parte è nel sud di Messico in Giucatán il numero 14 è il popolo magia sono 34 la proposta sapatista è che cada popoli tutti i popoli sono che sono parte del CNI coordinazione nazionale indigena forma un consejo indigeno di governo in questo mappa i popoli indigeni sono in verde e i popoli che costrui il consejo indigeno di governo sono in amarello 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 giallo giallo ma questo è una proposta la forma di funzionare non è non è bella ma è ma compleja ma esiste questa proposta di avere una un autogoverno alcuni popoli vanno in questa direzione come alcune comunità ma che popoli come Ceran Ceran una piccola città di 25 mille purepechas che avevano di un autogoverno con usos e costumbres se parla se dice in mexico che la tradizione ostula che è una piccola comunità in Michoacan anche in Oaxaca Oaxaca è molto interessante perché in Oaxaca esisten 500 municipi e 420 sono autogovernato non con partiti politici ma con assemblea e usos e costumbres e anche in alcuna città come Ciudad di mexico esiste la comunità la comunità abitativa a capazzingo sono 5.000 persone che autonoma la città è un problema terribile no? Perché è il centro della dominazione e perché nella città l'autonomia non è un desiderio è una necessità quando esiste ma il desiderio di autonomia di autogoverno è dei popoli indigeni non di tutti ma la possibilità del desiderio di autogoverno non è non esiste nella città in mexico esiste il congresso nazionale indigena che è l'organizzazione di una parte grande dei popoli che lavora per l'autogoverno in alcune parti questo funziona in altre non è un processo desiguale ma credo che anche in Chiapas esiste alcune città e popoli e comunità che che si autogoverna non sendo parte del movimento sapatista questa altra cosa importante il sapatismo aveva una influenza non diretta di suggerimento dice il google il google translator non una influenza diretta è una influenza come parlava Maria Francesca della indiretta no una influenza suave avevano con il mesmo problema e facciamo l'autonomia per difendere il territorio l'idea di difendere il territorio con l'autonomia e autogoverno è una idea generalizzata negli popoli indigeni nell'America Latina ma non tutti i popoli avevano della capacità per costruire autonomia avere la capacità di costruire autonomia ci sono altre domande alzate la mano non ne vedo ancora chi non riesce ad alzare la mano può intervenire lo stesso chiaramente una questione importante è che esiste una relazione autogoverno con territorio se non esiste un territorio proprio l'autogoverno non cammina non va ma che è territorio il territorio può essere un piccolo territorio quadras come si dice manzanas si si dice hectare si un ettaro si però noi non abbiamo le quadras sarebbe un isolato in un la superficie il territorio può essere piccolo non è il problema il problema è che l'autonomia è inserita nel territorio senza territorio l'autonomia è una dichiarazione quasi filosofica certo non mi funziona la manina posso provare a parlare sono Paolo vai Paolo buonasera ciao a tutte a tutti grazie infinita Zebecchi per tutte le cose che ci scrivi e che Comune Info traduce due cose due domande una per capire se ho capito mi pare di capire che la cultura del movimento zappatista sia una straordinaria combinazione tra cosmovisione e cosmovisione indigene e ricupero quindi anche di tutte diciamo di tutte le relazioni con la natura diciamo così e però una tradizione rivoluzionaria messicana zappatista mi pare che quindi con una dimensione di socialismo vedevo tra l'immagine che tu mettevi mi pare che comparisse molto spesso Che Guevara in quei murales insomma ecco quindi la prima domanda è questa se siamo in presenza diciamo di questa di questa cultura politica che nasce dalla combinazione tra tra queste cose da qui la la seconda domanda molto stupida forse no questo movimento zappatista che che non vuole farsi stato no non è un'avanguardia che tenta di influenzare di per usare termini gramsciani di egemonizzare i popoli e portarli su questa cosa qui ma come dicevi tu diciamo gli zappatista e gli zappatisti sono sono all'interno di un cioè hanno una dimensione plurale ecco però allora la domanda stupida è come funziona organizzativamente il movimento zappatista voglio dire come si organizza hanno una struttura noi facciamo noi occidentali che veniamo dalle tradizioni del movimento operaio facciamo difficoltà a capire un movimento che non ha tessere che non ha congressi che non ha leader che ha il volto coperto e così via e però in realtà tra di loro si parlano si riuniscono decidono fanno delle svolte no hanno procedono quindi evidentemente ci sono delle assemblee degli zappatisti finito Paolo grazie per le domande è interessante sì hai capito bene la cultura dello zappatismo è una combinazione come tu parla della visione del mondo indigena e delle tradizioni rivoluzionaria tradizionale la tradizione rivoluzionaria ma in altre parole la cultura dell'avanguardia era abituata alle pratiche del popolo indigena è come se l'organizzazione di vanguardia fu infiltrata fu trasformata per la cultura indigena no normalmente la cultura di vanguardia l'organizzazione di vanguardia il desiderio è organizzare e dirigere i popoli questo è completamente differente una parola probabil dei zappatisti è non vogliamo governare gli altri ma piuttosto aiutare gli altri a governarsi da soli è differente no se io ti governo io ti opprimo l'oppressione e io posso aiutarti a te organizzare ma non per te dirigire ma questa pratica di non governare gli altri e aiutare per gli autogoverni e il tempo di questo cambio di cultura è molto lungo lunghissimo la cultura l'argentina con l'argentina con mille non è una questione in una direzione lineale è contraddizione perché l'altra parte lotta per ricostruire la piramide per ricostruire la hierarchia per ricostruire il patriarcato questo è una parte no i sapatista rifiutano l'egemonia e l'unità esiste un comunicato di Marcos che dicono che l'egemonia e l'unità è un tentativo fascista di dominio questa è una provocazione questo è forte per lottare contro l'idea dell'egemonia e dell'unità la forma di come funzionano le basi di appoggio in ogni territorio si incontrano e lo fanno in modo quasi permanente per cada questione un'assemblea l'assemblea può essere se la questione è semplice di due ore ma se una questione è complessa l'assemblea può essere un mese una semana perché la decisione sono quando allora Moisés parlano di dieci anni per discutere il cambio dell'organizzazione sapatista dieci anni di evaluazione wow il tempo dei popoli indigeni è molto differente del nostro tempo il nostro tempo scusa posso dire claro sì una domanda rispetto alla proprietà privata zapatismo e anche le altre comunità le altre della regione insomma del Messico grazie le comunità non esiste la proprietà ma l'uso della terra l'uso del terreno del terreno è l'uso non è è valore è valore di uso non è valore di scambio non esiste la proprietà ma in questo momento ha una lotta per camminare per andare su terreni dello comune dei comuni questi terreni è comune e le persone che 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 aveva il desiderio di lavorare la terra la la lavora e si lavora poco si lavora molto il il la prodotti il prodotto della terra è per la persona è repartito in proporzioni al lavoro no? Si capito questo? Sì sì noi lo chiamiamo l'uso civico dei beni un uso civico condiviso in qualche modo sono due forme a hasta ora la comunità utilizza las tierras que tiene no in propietà sino las tierras che ha recuperato però un secondo passaggio che è chi lavora effettivamente la terra in qualche modo anche se è di tutti però ha diritto a utilizzarla insomma e anche a decidere su questa marx ha parlato di ciascuno secondo le sue capacità questo è un poco l'idea dello comune ma sta vittorio no? Vittorio ha alzato la mano Raul ti saluto e ti ringrazio ti volevo porre una domanda secca se è vero che questo percorso è una semina di cui non vedremo noi frutti come lo si può conciliare con la grande crisi climatica e il fatto come dire c'è che il pianeta non ha tempo cioè quindi la strada è assolutamente corretta saggia sposa la tradizione eccetera però cioè probabilmente abbiamo bisogno cioè di una visione come dire c'è che dia risposte anche alla crisi ecologica ambientali in tempi in tempi celeri e quindi cioè secondo te qual è il pensiero zapatista sulla visione globale della della crisi climatica grazie il zapatista considerano che siamo in un momento di collasso del sistema della della vita nella terra ma c'è qualcosa in comune con la crisi climatica e la crisi e l'idea di sembrare senza ricogliere non non lottando per preservare il planeta per noi ma per le generazioni futura la vita sul planeta noi siamo vecchi ma lottiamo perché altre persone vivere con dignità nel planeta questo è importante una questione etica non strettamente politica o una politica ispirata nella etica lottare perché l'umanità sopravviva e la terra sopravviva la vita sopravviva sopravviva si dice sopravvivere sopravvivere questa è una questione per me di pura etica politica o politica etica perché lottare per per lo mio per le cose personali non è molto rivoluzionario no combattere per ciò che mi interessa non è non è parte della tradizione rivoluzionaria Marx parlava di che la classe obrera fa la rivoluzione per liberare l'umanità dell'oppressione le donne non è per il il mio marito e il mio bambini è per per tutte le donne per tutta l'umanità perché anche le uomini sono parte de dessa liberazione è ricoprare le le più forti le più interessanti tradizioni rivoluzionaria francesco grazie francesco saverio è alzato la mano francesco francesco e roberto e roberto francesco ci sei apri il microfono francesco non ti sentiamo se no andiamo a roberto vado si vai bene ciao raul e grazie davvero una domanda che riguarda un po' la dimensione internazionale dello zapatismo oggi cioè quali sono i rapporti che sono stati un po' tessuti in giro per il mondo dal movimento zapatista e qual è un po' appunto tutto il circuito di mutuo appoggio che che esiste in questo momento da una parte la seconda piccola questione è come si proteggono oggi gli zapatisti nel loro territorio da per esempio il rischio di un assalto esterno da parte dello Stato si è sentito? si 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 è sentito raul l'entendiste? si si roberto il viaggio la gira attraverso l'Europa li ha influenziati molto perché l'idea era conoscere da prima direttamente cosa succede con i movimenti perché hanno cercato di scoprire cosa succede in altri posti del mondo una conclusione dei 20 comunicati dell'anno anteriore è che non esiste forza nel mondo per lottare in un livello superiore al locale esiste molta lotta locale come il no tab l'azienda mondeggi ma andare a un livello superiore al locale è molto difficile non succede in ninguna parte del mondo l'aggressione esterna i sapatisti sono disposti a resistere ma non faranno la guerra una cosa è resistere cambiare il posto e muoversi resistere la forma di resistere è la mobilizzazione non permanezere in un posto fijo ma fare la guerra in questo momento non è una idea dei sapatisti una idea è che il sistema tiene la sua agenda ma la nostra agenda non può essere una semplice risposta al potere non dobbiamo lavorare nostra agenda questo è un cambiamento della cultura rivoluzionaria degli anni sassanta credo grazie c'era Francesco se vuole riprendere la parola perché non so ha alzato la mano si è un'occupazione così della cioè sono realizzazioni umane molto molto elevate che per diciamo per esperienza di gruppi per poterle portare le persone a questo livello faccio lo psichiatra serve un'enorme capacità di amore tra i membri e mi chiedo come come è la realtà dei rapporti tra le persone diciamo che è collegato a una ad esempio a rapporti molto intensi molto belli anche individuali a due cioè come vanno ecco come vanno i rapporti lì perché pensavo rispetto all'esperienza dei kurdi no qui diciamo l'importanza di Yuchalan penso per no che l'induce a dei sacrifici enormi è una capacità di una solidarietà enorme e mi chiedo quanto influisca l'esistenza di un di un leader di questo livello e come va lì invece in Capas e se ancora comandante del Marcos è vivo e attivo in questo senso Raul hai compreso la domanda un poco Francesco io accetto assetto questa parola di un'enorme capacità di amore tra le persone ma io aggiungerei anche il mondo non umano le piante i fiumi le montagne perché l'amore oggi deve essere non per la vita non solo per gli umani perché la vita sta in una situazione grave la vita è parte del problema la vita è a rischio la vita non non solo i umani l'altra cosa dei dirigenti io credo che per i popoli indigeni non è necessario un leader per resistere per combattere sono leader senza potere come parlavano Clastres no sono leader senza poteri sopra poteri denominazione certo certo potere come potenzia come parlavano Spinoza no è differente potere come educazione come come il leader che lavora non per dirigere gli altri ma per essere una riferenza spirituale o morale certo certo d'accordo ok bene se ci sono altre domande se non credo Maria Francesca possiamo chiudere sì sicuramente se non ci sono altre domande una domanda scusa posso mi guido vai guido sì domanda è a livello nazionale messicano c'è un referente politico che in qualche modo come dire porti avanti un po' oppure tenga in considerazione valorizzi insomma questo tipo di situazioni grazie mi puoi traduzire Riccardo dice se hai una referenza un referente politico all'interior del governo che ora cambiò ora tiene una nuova presidente il Mexico da poco tempo si tiene alien che a livello istituzional politico tiene alguna relazione con ellos o qual è il livello di intercambio con le istituzioni se sono conflittuali o come è la cosa López Obrador ex presidente è stato un leader a livello del Messico un leader dello Stato ma senza rapporti con gli Zapatisti la relazione con degli Zapatisti con lo stato mexicano è molto di conflitto non è una non non esiste diálogo perché il presidente de Mexico il governo di Mexico adesso allora con Sheinbaum non reconoce la violenza en México non fa niente per per limitare la violenza contro i popoli contro i bassi sapatisti questo è un problema storico nel paese per cui non non esiste un dialogo non hai avverto nada con la parte ufficiale diciamo non solo non c'è dialogo ma i governi locale il governo dello stato non il governo federale il governo degli stati i governi dei municipi sono in relazione con il narcotraffico con la corruzione e questo è parte del problema i governi sono capturati capturados e catturati per il traffico sono gestiti insomma in qualche modo il narcografico un po' come la mafia in italia in alcune istituzioni governano insomma hanno influenzano ecco no governano direttamente nel messico no parte del governo non del governo federale ma del governo territoriali del governo locale perché il traffico non tiene interesse in avere un ministerio no no l'interesse del traffico è il governo locale il governo territoriale perché il traffico utilizza il territorio di forma permanente vi vi devo salutare devo scappare grazie quello che ci avete detto grazie a voi ok la domanda era se c'era qualche partito qualche movimento che aiuti non c'è non c'è guido alcuni ONG alcune organizzazioni della società civile ma l'istituzione statale sono completamente contra non solamente contra il sapatismo contro i movimenti sociali perché guido nell'america latina lo stato è una creazione coloniale a te oggi a sta oggi a oggi lo stato è del dominio della minoria bianca di tutti i paesi caso di Bolivia la minoria bianca è il 5% ma la giustizia è bianca Colombia Brasil 50% della popolazione è afro ma non esiste un sistema di sanità dove i medici sono afro è impossibile perché per la erenza erenza eredità coloniale un paese colonizzato è molto differente di un paese non colonizzato e tutta l'america latina e l'eredità è coloniale noi parliamo molto di Fanon per un caso in america latina perché Fanon per comprendere la nostra realtà io sono di formazione o di deformazione marxista ma è più importante leggere a Fanon che a Marx per comprendere alcune cose dell'america latina io ho letto Marx per me importante Marx ma Fanon e altri pensieri africano o neri sono per i femministi per un caso per noi è più importante Bell Hooks femminista afroamericana perché perché la forma di vedere l'organizzazione sociale è la questione dell'oppressione raziale è centrale o la forma come furono costruito lo Stato Nazione dell'America Latina il femminismo accademico non bianco non è un femminismo di lotta un femminismo con volontà di organizzare le donne dei cartieri poveri questo è il femminismo negro indigena e così la questione coloniale e patriarcale è centrale per comprendere la nostra realtà bene grazie Raul io direi che insomma è stata una bella occasione di confronto di scambio ti ringraziamo poi abbiamo linkato un po' i tuoi articoli che continuano puntualmente settimanalmente a uscire per cui insomma potete continuare a alimentare in qualche modo questa riflessione ci sono anche vecchi articoli che abbiamo messo che ripercorrono un po' quello che ha detto Raul per cui direi che possiamo chiudere probabilmente il prossimo anno a settembre Raul sarà in Italia e avremo forse un'occasione vediamo di incontrarci anche fisicamente insomma per me grazie mille mi dispiace di non parlare bene l'italiano no? ah no devo dire che stai migliorando molto no no sì sì l'italiano era perfetto volevo solo ricordare il prossimo appuntamento del corso che è il 25 novembre sull'esperienza del confederalismo democratico in Rojava con Caterina Tedone e grazie ancora a Riccardo a Raul e tutte le persone che sono intervenute grazie tante buona serata ciao Raul grazie